Demistificazione dei fattori di investimento, cosa significa è stato appurato ormai da diversi studi che la teoria del mercato efficiente, secondo cui il prezzo delle azioni è l'unico elemento su cui gli investitori fondano le loro decisioni, è superata. Infatti, le scelte di investimento sono influenzate da una gamma di fattori molto vasta, fra cui il periodo dell'anno, le dimensioni della società emittente e la qualità dei suoi prodotti. Si tratta di fattori di investimento che, se adeguatamente compresi e maneggiati, possono orientare gli investitori nella costruzione di un portafoglio ottimale e fornire informazioni utili sulle inefficienze del mercato e sulla psicologia di chi ci opera. 5 Fattori di investimento fondamentali I fattori di investimento sono moltissimi e non sempre coerenti tra loro. Alcuni dipendono dal periodo dell'anno o del mese, altri dalla psicologia degli investitori, come l'avversione alla perdita, altri ancora sono influenzati dalle ultime. tendenze dei mercati o dalle disposizioni normative. È possibile però individuare 5 fattori chiave. Dimensione dell'azienda Le società più piccole tendono a fornire un rendimento superiore. Ciò è dovuto, da un lato, al fatto che gli investitori si aspettano di più da azioni più difficili da vendere e, dall'altro, al minore. Ventaglio di controlli cui sono soggette le imprese più ridotte. Valutazione Le società che emettono azioni con un rapporto qualità-prezzo più basso tendono a ottenere rendimenti più elevati nel lungo termine. Non è detto che la valutazione di una compagnia ne rifletta in il valore reale. Ciò che influenza il mercato è la percezione che si ha dei titoli dell'azienda. Momentum Tendenza al rialzo La propensione di un titolo al rialzo in un determinato periodo storico tende a perdurare nel tempo. Si tratta di un fattore molto efficace, anche se naturalmente comporta il rischio di essere sorpresi da una svolta a ribasso. Qualità Le aziende con margini di profitto elevati e che detengono una quota di mercato significativa tendono a ottenere rendimenti a lungo termine superiori. Come per la valutazione, anche in questo caso è possibile che i mercati sottovalutino, anche per periodi prolungati, la qualità di una società. Volatilità I portafogli composti da titoli meno volatili rispetto alla media tendono a generare rendimenti migliori nel tempo. I vantaggi della demistificazione dei fattori di investimento I fattori di investimento sono sicuramente uno strumento efficace per incrementare il rendimento del proprio portafoglio azionario e orientare le scelte di investimento. La prima regola di cui tenere conto è che, come ogni aspetto dei mercati, anche i fattori di investimento non sono infallibili e devono essere accuratamente calati nel contesto. Alcuni sono efficaci solo in un orizzonte temporale di lungo termine, mentre altri si manifestano solo per intervalli più brevi. Di certo finché esisteranno i mercati, gli investitori continueranno a orientarli attraverso fattori di investimento dell'uno o dell'altro tipo. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione, o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Rudufort-Niedergrenod, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono Suscettibili di modifica senza preavviso, la società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso. Nei limiti del prospetto del fondo, gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative.